Musica Carissimi utenti, buon pomeriggio e ben ritrovati al Romano di Grotta Minarda. Oggi assisteremo la seconda di campionato. Infatti il Greci oggi affronterà la Gravitazionale, squadra media alta classifica. Passiamo alle divise, il Greci che si presenta con la divisa di casa bianco e celeste, invece la Gravitazionale si presenta con la divisa gialla e arancione. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà il calcio d'inizio e come dico sempre facciamoci Foggia e giochiamo a 20.000 megatoni e soprattutto giochiamo col crimine. Il padrone di casa prima di ripartire, lancio davanti, Matteo intercetta, la lancia, deviazione aerea, vai Michele, cadici, occio! Colpo di scena ragazzi, colpo di scena, il direttore di gara ha segnalato un calcio di rigore. Occio raga, Michele l'ha battuta, è tutto pronto? Michele ci prova, occio! Michele taggia a sparare e Michele sbaglia clamorosamente. Occio raga, gli ostici si stanno facendo minacciosi? Stefano dai credici di rovesciato, incredibile! Il portiere la prende senza problemi. Occio raga, il Greci si sta cedendo come un albero di Natale con Stefano, rimpallo, Stefano ci riprova, palla in mezzo, per Vincenzo, Vincenzo ci prova, ma il direttore di gara segna un fuorigioco. Per qualche istante il direttore di gara fischierà la fine del primo tempo, si vanno gli spogliatori sul risultato inchiodato sullo 0 a 0. Per qualche istante il direttore di gara fischierà l'inizio del secondo tempo. Occio raga, la gravitazionale riparte da una rimessa laterale, lunga e gittata, occio raga, occio raga, tenetelo, che ho su mezzo, stoccata di testa, fortunatamente è andata fuori. Il mister opta per un cambio, fortunato l'ex di turno e esce Stefano. Occio raga, gli ospiti si stanno facendo pericolosi, lancia lungo, da Vito! Ma il direttore di gara segnala un fuorigioco. Occio raga, il padrone di casa si prestano a battere un calcio ad angolo, è tutto pronto? Occio, occio, ci va di testa! Incredibile parata di Francesco! Occio raga, la gravitazionale ha messo la quinta, palla in mezzo, ci prova! Mamma mia che brivido ragazzi! Occio raga, pallone per Andrea, la butti in mezzo per Vito, dai Vito credici! Occio! Mamma mia cosa si mangia Vito! Se a qualche istante il direttore di gara fischierà la fine della partita, partita che si conclude sul risultato inchiodato sullo 0-0. Ragazzi, spero che questo video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima! Hola!